Ciao, come state? Oggi voglio parlare con voi di abitudini che ci fanno sentire vecchi e che ci fanno sembrare vecchi. Benvenuti sul mio canale, state qui con me, i punti sono sette, però man mano che arriviamo verso la coda, gli argomenti sono sempre più acuti e sempre più letteralmente dolenti. 1. L'esposizione solare. Lo so che è scontato, ma io ve lo ricordo lo stesso, l'eccessiva esposizione al sole è dannosa e accelera il processo di invecchiamento precoce. E magari hai vent'anni e dici ma no, ma mi sta bene, a tu ti piace essere abbronzati e a vent'anni non ti rendi conto, ma a trent'anni non chiederti perché è sempre più vecchio di quello che sei. 2. Poca acqua, poca idratazione fa male. Bisogna bere parecchia acqua durante il giorno, soprattutto d'estate, anche perché ci sentiamo più stanchi, ma anche più stanchi a livello cognitivo, più stanchi mentalmente. Il corpo se è disidratato non funziona al suo potenziale, al suo massimo potenziale, perciò bevi, bevi tanta acqua, soprattutto d'estate, anche perché l'idratazione va mano alla mano con il processo anti-aging, perciò se bevi più acqua sicuramente sembrerai più giovane, perché mantiene i tessuti, la pelle, gli organi idrattati e in buona funzione. Anche perché bisogna anche calcolare che ci sono alcune sostanze che magari tu usi e noi usiamo che magari disidratano il corpo come il fumo della sigaretta, come il consumo del caffè. Sappiamo che per ogni caffè bisogna bere almeno un bicchiere d'acqua, oppure, non lo so, i cibi salati o i cibi molto processati, le patatine, oppure i salumi, le cose molto molto processate, no? Ecco perché è importante mangiare frutta e verdura fresca, il cibo fresco e tornare a cucinare, insomma, a casa, ma soprattutto penso che nel lockdown tutti un po' abbiamo ripreso le attività in cucina, perciò fa molto bene perché tanti cibi portano l'acqua, la frutta, la verdura. Ecco. 3. Lo stress. Sì, lo stress è una causa comune dell'invecchiamento precoce. Se siamo stressati sembriamo anche più vecchi e alla lunga non fa bene. E lo so che sembra utopico, come fai a non essere stressato nel giorno di oggi? Però è tanto importante, forse dicevo nei miei primi video, che è tanto importante la nostra risposta allo stress. Ognuno di noi risponde in maniera diversa alla stessa fonte di stress. Ed ecco perché magari quelle persone che sono piuttosto ostili, che hanno un atteggiamento piuttosto ostile, piuttosto remissivo, che sono piuttosto pessimiste, negative, che vedono tutto nero, insomma, ma anche quelli che sono ipervigili, che non riescono a riposarsi magari abbastanza bene di notte. Ecco, sono tutti fattori che impattano tantissimo sull'invecchiamento precoce. Non so se avete mai sentito di telomeri. Sono quelle estremità che stanno attaccate ai cromosomi e hanno un ruolo fondamentale nel combattere lo stress, i telomeri. Anche perché, non so se avete presente, vi faccio un esempio, i lacci delle scarpe hanno dei pezzettini di plastica agli estremità per proteggere i lacci e non distruggersi. Ecco così, sono anche i telomeri un po', perché hanno questo ruolo di proteggere la cellula. Più sono integri, più sono lunghi, non invisibili, più la cellula ha questa capacità di rigenerarsi, di dividersi, rigenerarsi, piuttosto che invecchiare e morire. Perciò, ecco, se possiamo fare qualcosa nella nostra quotidianità per star lontani, per allontanare le fonti di stress o per rispondere in modo adeguato allo stress, in modo positivo allo stress, sicuramente ci aiuta a mantenersi in forma, a mantenersi giovani. 4. Ignorare i problemi. A volte ci viene con più facilità a magari concentrarsi di più sul nostro corpo che sul cervello, sulla nostra salute mentale, ma è talmente importante comunque non evitare un problema, non nascondersi dietro, non magari nascondere, evitare un conflitto. È meglio affrontare le cose appena arrivano ed è meglio anche non nascondere le emozioni, la rabbia, la frustrazione, non lo so, la vergogna, i risentimenti. Non fanno bene, non è un cervello felice quello. Ed è meglio imparare a gestire le proprie emozioni come meglio possiamo. Esercitandosi ad ascoltarsi, a guardarsi dentro, a dare un nome alle nostre emozioni, fa molto bene e ci mantiene giovani. 5. Le tragedie quotidiane. Non so se avete conosciuto anche voi, ma immagino di sì, quelle persone che amano a creare movimento, caos, diffondono le notizie, quelle notizie di ultimo minuto, di là, di qua, spruzzano insomma un po' di enfasi di qua, di là. Ecco, questa abitudine non fa bene alla nostra salute e ci sono dei studi che dicono che comunque alla lunga accelera il processo di invecchiamento. Perciò, ecco, anche se loro, queste persone magari non sono la fonte diretta del gossip, però collateralmente amano stare in mezzo a certe cose. Perciò, se avete a che fare con queste persone, vi dico che è meglio evitarle perché vi porta via l'energia. Perché portare dentro la sua quotidianità cose che non hanno a che fare con la propria vita? Bisogna anche dirgli semplicemente, guarda, non mi interessa questa cosa, non voglio sapere queste cose, non mi interessano. È meglio così, fai meglio perché preservi la tua salute, la tua salute mentale ed è molto importante avere intorno a te persone positive, non di quelle che si lamentano, non di quelle che amano il gossip. Un'altra abitudine invece è la pigrizia mentale, che ha un impatto fondamentale. Non so se avete presente i giocatori di scacchi, sono persone intelligenti anche perché il gioco è complesso, è complicato. Chi ha questo hobby sicuramente si mantiene il cervello giovane perché usano strategie, metodi. Poi c'è anche quell'analisi retrograda, guardavo nel film, la regina dei scacchi, che partono dalla fine per capire le mosse. Insomma, anche nella quotidianità si può usare questa analisi, tipo non so, quando magari hai un confronto con un collega oppure anche con il tuo partner, si parte sempre un po' dalla fine per capire un po' gli step per arrivare alla fonte del problema. Ma come anche i calcoli, i calcoli matematici, io sono un disastro, sono sempre stata pessima in matematica, non mi è mai piaciuto, non mi sono mai piaciuti i calcoli e da grande però invece mi sono un po' data da fare perché bisogna mantenere il cervello un po' attivo e in qualche modo, tipo anche quando sono magari in giro, faccio i calcoli, le percentuali un po' in mente, non uso la calcolatrice del cellulare, tipo non so se devo sapere quanto è il 15% dei 40 euro che devo pagare, faccio in mente 10% dei 40, poi 5% che è più facile poi faccio la somma. Ogni tanto faccio questi calcoli perché mi tengo un po' attiva, anche perché come vi dicevo non sono portata, perciò mi sforzo e mi impegno e questo sicuramente il nostro cervello gioisce del tuo impegno e sicuramente fa bene avere un cervello giovane e attivo. L'ultimo punto riguarda il sedentarismo e la salute dell'intestino, ambe due fattori secondo me impattano tanto sull'invecchiamento, sul processo di invecchiamento precoce, ecco perché ovvio lo sappiamo che l'attività fisica poi soprattutto se trovi quell'attività fisica che ti piace, che riesci a mantenere costanza e che si adatta alla tua età, ovvio un tessuto irrigato, un tessuto ossigenato sembra più giovane, no? Come anche un'articolazione irrigata, ossigenata è sempre più funzionale rispetto a una rigida. Ed ecco perché anche la salute dell'intestino è importante, ultimamente si parla tanto del microbiota intestinale, del collegamento con i processi infiammatori, con la depressione, ma anche le intolleranze alimentari, anche le disbiosi intestinali, fa molto bene prendersi cura del proprio intestino, perché poi ci sono, non so, ci sono anche quelle persone che sono magre, no? Però hanno la pancia gonfia e a volte anche l'intestino maschera anche dei dolori osteoarticolari, a volte causano anche dei dolori osteoarticolari, magari hai problemi, non so, perché magari soffri di colite oppure, ma anche ci sono delle malattie autoimmuni, no? Come Crohn, che mascherano in, non so, dolori lombari e pensi che magari ti fa male, non so, le articolazioni e la colonna, invece è l'intestino. Ecco perché bisogna ascoltarsi, a volte anche le intolleranze alimentari non sempre escono fuori ai test generici che facciamo, a volte solo testando su noi stessi, sulla nostra alimentazione, magari all'inizio avendo una dieta più povera, con, non so, il riso bianco, poi man mano aggiungi gli alimenti per capire a cosa sei tollerante, a cosa digerisci bene, che cosa non ti fa bene, oppure anche farti aiutare da un nutrizionista, ma anche dall'osteopata che capisce un po' certe cose, perciò è molto, molto importante curare il proprio intestino, anche perché viviamo con questi ritmi anche circadiani, non solo per quanto riguarda l'attività ormonale, ma anche i nostri organi interni hanno un certo funzionamento, un massimo, un minimo durante le 24 ore, non so, per esempio l'intestino dalle 6 di mattina alle 8 ha il massimo funzionamento, perciò a volte se tu magari non riesci a fare colazione perché sei di fretta, ti alzi tardi e scappi in ufficio, oppure ti alzi tardi a mezzogiorno perché hai fatto tardi la sera prima e perciò non fai la colazione, non vai in bagno, ed ecco perché non conoscendo magari certi processi fisiologici dei nostri organi, gli alimenti restano tanto a lungo nell'intestino e anche la stitichezza è un'abitudine che è importante comunque, come anche le diete, ecco le diete a volte ultimamente va di moda queste diete iperproteiche che secondo me non fanno tanto bene perché tante proteine non fanno bene alla salute, prima di tutto perché magari per una settimana, due va bene, però dopo sollecita troppo il metabolismo e magari anche l'accumulo di proteine sicuramente irrigidisce un po' il connettivo tipo i tendini, le articolazioni, i muscoli dà più rigidità e ci fanno male anche le articolazioni, poi anche la camminata non è così, ma anche la corsa sembra più vecchi, perché siamo più rigidi, abbiamo più dolori, le ginocchia, le diverse articolazioni, perciò è molto più importante avere una dieta equilibrata, ricca di frutta, verdura, pesce, tutto carboidrati, riso, pasta integrale, pochi zuccheri e concluderei qui il mio video sperando che le mie informazioni vi sono in qualche modo utili, anzi potete anche condividere questo video se pensate che qualcuno ha bisogno di sapere qualcosa di quello che abbiamo parlato noi oggi, se vi è piaciuto il tema lasciatemi un like, iscrivetevi al mio canale se non l'avete fatto ancora, io ci tengo tantissimo e mi fa tanto piacere perché vedo che ci sono tante visualizzazioni però magari in tanti non vi siete ancora iscritti, lo ripeto sempre, perché davvero ci tengo tanto e noi ci vediamo la prossima settimana con dei argomenti spero sempre interessanti per voi, grazie, grazie di cuore!